Allora, il missionario dell'Imia. Nostro signore, a quella testa matta che mo' per convertì qualcomo indiano se va a scapicollà tanto lontano, sai che cosa gli ha dato? Una ciavatta. Lui l'ha baciata, l'ha piata in mano, l'ha messa in una scatola di latta e poi trento una borsa, tutta fatta a strisce de villuta e taffettano. E il prede porta un crocifisso e quella. E a riduce gli popoli alla fede col Cristo e la Santissima Ciafrella. E se c'è poi qualche figlio del mulo che non gli abbasta, se la mette in piede e te lo fa cristiano a carci il culo.